Allora, capitati prima, ci sono tutti. Allora, prima che io dia lettura, vi devo chiedere, cortesemente, mentre i bambini sono giustificati in quanto non sono capaci di intendere e volere, li posso tollerare, non riesco a tollerare le persone capaci di intendere e volere. Allora, la questione è che dopo che ho terminato di dare i voti, vi devo programmare dottori in farmacia, perché potete applaudire e fare tutto quello che volete, però mi dovete far finire la proclamazione, perché questa è una cosa che io faccio, diciamo, con i poteri che mi dà il vettore in qualità di rappresentante della facoltà. Allora, diamo lettura dei risultati dell'attività di laurea odierna per la laurea in farmacia. De Bascale Francesco 108 su 110, Tararigo Gianluigi 91 su 110, della Camera Alessandro 89 su 110, Imposito Dora 97 su 110, Panaro Antonio 66 su 110, Ciucci Alessandro 110 su 110, e l'Ode, Bartolomea De Iuli Anna Maria 106 su 110, D'Antonio Luciano 105 su 110, Perrino Tonio 110 su 110 su 110 e l'Ode, Tenta Rachere 108 su 110, Lantania Michela 110 su 110 e l'Ode. Il nome di tutta la Commissione, vogliamo fare una menzione speciale alla carriera della studentessa, perché si laurea, non dipende come avete sentito, ma con una media di base di quasi 107, che vuol dire 29,4, più o meno 11, pertanto una menzione speciale alla sua carriera da parte di tutta la Commissione. Detto questo, per i poteri conferiti dal Magnifico Rettore, il programma Dottore di Farmacia. A voi! Grazie!